E' chiaro che ci sono due partite da commentare, quella in parità numerica e quella poi dopo l'espulsione di Tiritiello. La primissima parte, una bella Lucchese. Sì, esatto. Un'ottima Lucchese per mezz'ora, poi l'espulsione, il gol immediato, il gol prima della fine del primo tempo, hanno condizionato una partita contro una squadra forte che spinge, merito a loro, mi piace perché gioca per vincere come noi. Gli episodi sono molto negativi, non so se la palla di Cuppone era regolare o era un fuorigioco, questo è un po' sposta tanto. Se dovesse essere buono, è giusto l'espulsione, magari era meglio prendere il rigore senza l'espulsione, così continuiamo a giocare in parità numerica. Archiviamo velocemente, non mi è piaciuto forse un po' alla fine. Sono giovani, si parla tanto del Pescara, l'ho detto non per voi, lo dico qui a Lucca. Giochiamo con parecchi giovani anche noi, a un certo punto la partita va un pochino congelata in maniera diversa. Però diciamo che questo spirito di provare a fare qualcosina, che non so cosa, perché sul 3-1 o 4-1 riaprire una partita diventa un po' utopistico, bisognava essere un pochino più esperti. È stato chiaro e preciso, io vado ad analizzare la prima parte della partita. Il vostro tema, mi corregga se sbaglio, il tema tattico che avevate pensato è quello di andare in pressione sui portatori di palla del Pescara e provare subito a sorprendere con la rapidità difedato da un l'altro, dall'altro esterno dall'altro lato, alle spalle della prima linea di difesa del Pescara. E c'eravate riuscito? Sì, sì, noi giochiamo per provare a riconquistare palla immediatamente, corri dei rischi, perché corri dei rischi, però c'era venuta abbastanza bene, anche il Pescara era stato pericoloso, ha avuto un'occasione, però una partita aperta, divertente, poteva essere una bella partita, diciamolo è stata soltanto per voi, per noi un po' meno, però il calcio è questo. Andiamo avanti e da una parte sono contento perché a volte si sottovaluta un po' l'ottava partita che facciamo, non abbiamo speculato mai contro nessun avversario, fino alla settima giornata eravamo la squadra che calciava più in porta, dobbiamo avere un po' più di qualità che ti sposta, bisogna avere un po' più di esperienza in dei momenti cruciali delle partite. Mi chiedo un'ultima cosa io prima di una domanda da studio, profitto della sua presenza perché non ha peri sulla lingua, ha affrontato poco fa la Torres e mercoledì ci sarà Pescara-Torres, Biancazzurri appena affrontati, che partita si aspetta che sarà tatticamente? La Torres è una squadra forte, che ha giocatori di esperienza, è una squadra con buona qualità, probabilmente ha raccolto un po' troppo, forse la partita che merita di vincere è questa col Ponte d'Era, però è una squadra che merita di stare in quelle posizioni, sarà dura anche per loro però affrontare il Pescara, sono convinto. Ma bene, sono stato molto bene, un'esperienza molto tribolata, una squadra che a un certo punto andò impicchiata proprio, mi ricordo, era una buona squadra però secondo me in un torneo che era difficilissimo, se non ricordo male era il famoso torneo con 24 squadre, penso, credo, esatto. No, 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 sono stato bene, poi Pescara a volte ci vado, quindi è una squadra, ho molta simpatia per questa squadra, è un tifo caloroso, un allenatore che mi piace, che ha questa mentalità, lavorate sui giovani, quindi sono stato bene, vi auguro di continuare, di lottare per quello che vi eravate prefissati.